Ben tornati ragazzi a The Game Centipede, questo è il nuovo episodio, sempre registrato da Hall, è il secondo di questo giro, di questa run. Cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di scoprire che cosa è successo allo spirito della foresta in modo da portare a termine una missione assegnataci da un nobile, Lord Yun mi pare, che è in possesso delle carte del vento, che ci permetterebbero teoricamente di raggiungere la capitale. Faticosamente, faticosamente siamo giunti qui, sono morto innumere volte, però nell'episodio non ve l'ho fatto vedere perché porterebbe via troppo tempo, e possiamo andare a destra o a sinistra? A sinistra c'è il templio che è la nostra missione, essenzialmente. A destra abbiamo la locanda del pellegrino stanco. Dato che il viaggio verso la locanda mi è sembrato sempre più difficile, io vado prima al tempio e vediamo che succede. Arriviamo all'obiettivo, insomma. come? Ah! 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 come puoi combattere così bene quando tutto ciò che faccio è piacere? è più difficile a piacere la sua acqua e face a questi ghiosti è tutto in questa foresta dapposti? guarda, quella ha tutte le parti, e nessuno di quelli che si fanno! è una volta che ho avuto un challenge Mmmmm... No, no, no! Knockdown. Ok. Oh, merda! E apresa. ma che cosa fai? oh la oe che non puoi tenere nel culo eh già proprio lui proprio lui mi piacerebbe rifiutarlo non può capire niente ok non mi importa niente di lui lord yon yon mi ha mandato qui per aiutarti ho acceso i fuochi e le fornaci sono pronte ma manca uno dei cristalli chiave senza non possiamo nemmeno capire a cosa servono queste fornaci dove? la locanda chiaramente cosa aveva di strano un bambino deforme se ci sono ancora persone qui allora chi ha avuto il cristallo potrebbe essere ma non 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 la locanda si ho bisogno di tutto quello che mi stai offrendo allora gemma del guerriero difettosa corpo più uno gemma del monaco spirito più uno gemma lucente stile colpo leggendario questo stile può essere usato per terminare una combo armonica costa costa tantissimo no drago delle tempeste danni diretti modalità colpo chi no spirito del cacciatore che cosa sei tu? boh chi più 15 concentrazione più 3 porta del cinghiale energia più 7 chi meno 3 concentrazione più 7 boh non so cosa possiamo vendere? uh potremmo vendere queste interessante interessante questa cosa ok allora facciamo un giro qua pergamena archivi del tempio ok intanto facciamo XP il drago delle tempeste il drago delle tempeste il drago delle tempeste ok questo cos'è? ah che meraviglia solo ricarica del chipero teniamola presente teniamola presente qua non c'è niente ok teniamola presente perché potrebbe tornarci comodo il chi per sconfiggere i nemici salviamo e e e e e proviamo a vedere se c'è ok se c'è qualcosa di più interessante la intimidazione intuito spirito queste sono tutte sociali eh mente ci sarebbe del corpo vabbè vediamo più avanti prossimo livello siamo a metà tecniche ok quattro punti stile ah beh sono quelli quattro me ne servono sei ok dobbiamo andare qui qui c'è ah questo è il mercato mercante ok qua c'è una scimmia a me fa sempre una strana paura e quindi salvo così al più riprendo lo scontro buono ok lo cambia e eccola la no ho sbagliato il tasco sbagliato il tasco fuori giovane qui ok oddio cosa c'è piuttosto ce ne fosse solo uno va bene va bene ok non mi morire tu stannalo ok la concentrazione e fanno morire ottimo grandissimo grandissimo vediamo ogni cosa merda ok teniamoci un po' di chi chi roccia questa roccia da rompere gemma del monaco inferiore premio pulsante attacco per chiudere dopo scopriremo cos'è ok la vedo dura ora facciamo dei salvataggi strategici oddio ecco che sei tu cosa sei il bambino deforme si si ah bisogna darlo prendere ma da dove è passato qui ma con un attacco potente no vabbè cazzo cazzo si eh tempi duri l'uomo che avete mandato a cercare aiuto all'approdo di Tien è stato ucciso ok si avete perso molte persone per colpa dello spirito della foresta perchè attacca la gente mmm secondo me state facendo qualcosa di molto brutto perciò anche se che il lo 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 ecco hanno il cristallo perciò si perciò 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 ci ci in una 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 Il hunter ha parlato di un rituale che ci farà arrivare alla scuola della forza, ma è un uomo! Ha pensato di trovare la foca e chiedere la sua scuola! La sua scuola! Non lo aiuterà a nessuno, almeno noi, all'inizio. Per salvare il hunter da sua propria malattia, abbiamo preso il cristallo prima di poter arrivare al Tempo. Ma... Avete rubato il cristallo per impedire che il rituale venisse eseguito? Esattamente! Bravo, cefo! No, io non uccido... No, no! Ti daremo le quimamente in denaro dei tributi di metà anno! Perché siete così convinti che debba morire? Magari voi! Questa so-called guardia della forza, deve essere dietro di ciò che sta succedendo qui! La scuola le tue e la scuola il ghost! Non può essere un altro modo! Il forestale... Mi sembra che sia ovvio ciò che devo fare, certo! Ci uccidere il locandiere! Non credo! Ehm... Molto bene! Ok... Il nostro cordo cadrà subito, amico mio! Noi soldi interessano limitatamente! Direi di uccidere il locandiere poi... Per i soldi! Ora vai! Ok, abbiamo il cristallo della terra, abbiamo mentito, un ciccione tronfio... E... E... Siamo... Il punto di morte... Niente avrà venuto, a sé che da Tien's landing, e il posto è fermato! Magari qualcosa qui da mangiare, da comprare... Una locanda! Ma... Ma... Mi sa che non c'è proprio niente... C'è ancora del cibo nelle grotte sotto terra? C'è ancora del cibo nelle grotte sotto terra? Ok... Umile cuoco! Dammi del cibo! Ok, mostrami ciò che vendi! Ma... Si è un po' strano... Ok, ma vendono delle gemme! Non si mangiano le gemme! Bella questa! Però pugno chiuso! Non voglio legarmi! Stacchiamo tutto, eh! Facciamo il danno! E poi salviamo... Oh bella! Dopo guarda che gemma è! Beh... Ok... No, non voglio niente! Ok... Gli imbroglioni! Ok, qua non c'è niente... Andiamo a vedere la gemma! Anzi... Salviamo la partita! Tec! E poi... Andiamo a vedere la nuova gemma! Che spero sia in... Allora, spirito 2 no! Corpo 1! Intimidazione no! Sì sì, non mi interessa! Problema del potere... Mente... Era quella là! Sì! Ok! Oh! Abbiamo un entry! Sì! Cazzo le streghe! Scendendo dalla collina est della locanda ci trovo un tempio dedicato allo spirito della foresta! L'hoste crede che sia il posto migliore da cui iniziare le ricerche! Sì! Ma noi non uccideremo la volpe! Ho salvato! Sì! Ho salvato! Sì! Risalvo! E qui si muore un sacco! Ok! Foresta! Ok! Ho trovato il cristallo! Ho trovato il cristallo! Ok! Voglio sapere di più sul rituale! Nel pedestallo centrale in cima a queste scale sbloccando i bracci delle lenti nelle fornaci inferiori! A che servono le fornaci? Presumamente per alterare la luce! Il padre di Yon è un padre. Un foresto, ha detto, ha solo su due seasoni. Il calore più calore dell'estate e il blu. Ok! Gli cieli d'inverno sono freddi e blu, mentre i campi di primavera sono verdi. Il rosso è il colore dell'estate. E giallo l'autunno. Vabbè, ci siamo! Allora! Posso capirlo! La chiave sembrano essere l'estate e l'inverno. Il turbine nero rimarrà di dietro per offrire il suo aiuto. Ok! Sono sicuro che troverò qualcosa da fargli fare e diventa forse il mio nuovo tank? Sì, speriamo! Vieni con me e ne vedrai delle belle! Ma che bello! Sì sì sì! Sì sì sì! Ok! Abbiamo un nuovo seguace. spettacolo ricarichiamo il nostro no il nostro con la nostra concentrazione e poi se non abbiamo per qualche motivo venduto il nostro la nostra gemma facciamo partire il rituale che è questo qui ok perfetto perfetto quindi questo qui è la centrale ok mi ha attivato questo e noi lo dobbiamo fare andare in inverno forse dobbiamo fare un giro così inverno qui c'è qualcosa che però non si può toccare quindi forse è sbagliato e un po di far partire ok vediamo un po cosa succede se abbiamo il giallo c'è autunno eh niente di niente ok nei chiari sono inverno e estate vediamo un po cosa si può fare se io vado di qua l'estate è questa no non riesco ok quindi è successo qualcosa e ho portato l'inverno ora però non abbiamo altro la luce bianca è diventata blu blu arriva là ah la vuole la verde ecco la vuole la verde è data da ru ma noi non riusciamo a fare queste cose l'interruttore giallo e non possiamo attivare un altro interruttore quindi non capisco ah ma qui ce n'è un altro ciao ti spingo ecco ti spinto ok questo ci porta luce in quell'altro perfetto allora il tizio qua dice che dobbiamo giocare spero almeno giocare su inverno e estate quindi lasciamo perdere le altre due mettiamo rosso e blu vediamo che succede vediamo un po' vediamo un po' vediamo due po' ho aperto un portale a storm wind è diventato bob allora salviamo come sempre dovrebbe esserci un tasto veloce per salvare perché è una delle attività più frequenti cielo cielo oh andiamo in cielo ok guardate che bello già rido pensando a west che si troverà in un posto simile dal nulla forse perché bisogna vedere magari in 5-6 minuti riesco a fare cos'altro eh signore qua arrivano con le barche rotte chi sei? chi sei? chi sei? chi sei? io sono Zin Bu il magico avanti io ero assignato per recordare, tabulare e itemizzare la destruttura che ti causi non c'è un tassetto che potrei aggiungere soprattutto se ti esercivi su questa quest wilde wilde per trovare il tuo maestro poi adesso ho anche l'ubriacone di fianco certo certo ah non c'è questo tutto ha un senso ok sembra un lavoro molto complicato e poi sta andando anche in bacca probabilmente la trama 3.040 pagli 3.040 pagli ok rimane pure indietro bene e io ti aiuterò mmm oh interessante interessante quindi il personal shopper cosa devo fare? devi comprarmi e vendermi qualcosa se lo desideri ho già un venditore un mio amico del dipartimento delle morti premature fantastico sbarazzandomi degli altri fornitori e compratori posso risparmiare tempo e essere più efficiente questo forse a questo punto riuscirò a riguasciare un po' bla 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 vai ok si brava bravo ok ok seccante proprio quindi devo chiamarlo ho un seguaccio in più stica ok oh oh vita oh che spettacolo salva se penso tutte le volte sono dovuto tornare in città per recuperare quella che ho un umano qui no non dovrei esserci ti avremo ti avremo cosa? i demoni stanno tornando umano se tieni la tua vita aiutaci a combattere ci sono i demoni ok cerco di fare questo scontro e poi passo la palla al mio è l'ultimo west e un po' se sono immuni e immuni ok ok bello muoio da soli mamma mia che bello quello con l'ascia ok la madre il demone a cui obeliscono ora è abbastanza forte da inviare i suoi servi ad attaccarci direttamente ma dai cos'è questo posto questo è il regno dello spirito della foresta l'avevo capito su angolo di paradiso andrò a parlare con lo spirito percorre i ponti tra le isole la sua casa è laggiù perfetto ok bene allora spirito della volpe non mi interessa ne approfitto per fare il pieno di benzina una scimmia ne approfitto per fare il pieno di benzina e poi direi che lascio il nostro caro west qui qui in questo punto direi e con questo io vi saluto vi ringrazio per aver seguito anche questo video se vi è piaciuto mettete un bel mi piace perché noi ci campiamo con queste cose non è verissimo ma ci piace averli ci piace averli ci piace e a presto probabilmente ci risentiremo per un terzo giro è molto facile perché il gioco non è brevissimo ciao ciao